come dobbiamo pregare in questo martedì della prima settimana il signore risponde questo quando nel vangelo ci insegna la preghiera per eccellenza il padre nostro e poi lui aggiunge se perdonerete sarete perdonati ecco qui vogliamo meditare perché quante volte questa preghiera è meccanica questa preghiera che è così bella che è così profonda viene fatta quasi in contraccanto signore io ti dico un padre nostro e tu dai quello che voglio signore io ti dico un padre nostro e tu guarisci il mio cuore e tu perdonami e cari fratelli la preghiera non è un contraccambio è una relazione d'amore come santa teresa diceva è un dialogo di amore tra dio e io ecco riusciamo a comprendere questo quando diciamo la parola padre doveva già scaturire nel nostro cuore quello sentimento filiale dove io non voglio soltanto il bene che mio padre ha per me cioè non voglio soltanto l'eredità non voglio soltanto i soldi che mio padre mi può dare ma io voglio molto altro che questo voglio essere unita a lui voglio essere in sintonia voglio scoprire quello che piace a mio padre e quello piace e con dio io voglio scoprire il suo volere per me questa relazione che ci invita ad entrare ad entrare in profonda intimità che oggi quando tu pregherai il padre nostro chiederai al signore signore fa con che io possa conoscere la tua voce fa con che io possa scoprire la bellezza della tua volontà nella mia vita quindi faremo sì che i nostri preghiere siano capaci di fruttificare in perdono in pace il frutto di grazia per noi e per i nostri ti auguro ogni bene che la grazia del signore invada il tuo cuore pace gioia a tutti